I reflui liquidi delle varie fasi di pretrattamento devono essere convogliati nell'impianto di depurazione prima di essere immessi in fognatura comunale o nelle acque di superficie, nel rispetto dei limiti di composizione imposti dalle leggi vigenti. I fumi prodotti durante le varie fasi di pretrattamento devono essere monitorati e tenuti al di sotto dei livelli imposti negli ambienti di lavoro e per le emissioni in atmosfera. Il rumore all'interno dello stabilimento e all'esterno deve essere valutato strumentalmente e portato al di sotto dei limiti di soglia.